Prima della pausa, voi vivevate un grandissimo momento, due vittorie, sei punti, punteggio piano eccetera, loro hanno preso appunto questa scoppola, dirlo prima non è semplice, però chi ha fatto bene la sosta? Lo vedremo domani, la sosta lascia sempre qualche incognito, noi abbiamo lavorato insieme, però ripeto siamo sullo stesso livello, noi abbiamo lavorato insieme sugli ultimi due giorni, da giovedì pomeriggio che abbiamo preparato la partita in questi due giorni, credo che dal punto di vista tattico sia sufficiente, anche perché abbiamo ripreso solamente il lavoro che avevamo cominciato quest'estate, credo che farà molto differenza l'aspetto mentale. Stefano Pioli riparte da qui, sa che il momento magico andava cavalcato, ovviamente non può dirlo, per non dare nessun alibi ai suoi giocatori che peraltro su questo c'è da scommetterci, difficilmente sbaglieranno approccio a una partita fondamentale come quella di Napoli alle 18 di domani, sebbene a San Paolo siano previsti poco più di 15 mila spettatori. È chiaro che preferiamo tutti noi che facciamo questo bellissimo sport, preferiamo giocare in stadi pieni, credo che più c'è passione, più c'è entusiasmo, più coinvolgente, che sia pro o favore è più coinvolgente. Ma quali saranno i protagonisti della Fiorentina scelti dal tecnico per partire dal primo minuto? Cambierà fatalmente qualcosa a centrocampo con il rientro di Veretù. Piazza potrebbe essere titolare, ma non è detto che Eisseric sia accantonato dopo le belle risposte date contro Chievo e Udinese. Durante la pausa l'allenatore Viola ha tartassato però i suoi con le stesse frasi. Il vero Napoli non è quello che ha perso a Genova, anche se l'addio di Sarri deve ancora essere completamente metabolizzato. Ancelotti è un grandissimo tecnico. I primi contatti che ho avuto con Ancelotti è quando lui giocava in prima squadra a Parma in Serie C. Io giocavo nelle giovanili e facevo raccata a palla la domenica. E ho messo anche gli scarpini che lui buttava via, perché io li facevo aggiustare e me li mettevo a giocare. Secondo me lui non se lo ricorda, ma io me lo ricordo bene. E ho assistito anche allo spareggio per il Parma per andare in Serie C, dove lui fece due gol nei supplementari prima di andare a giocare alla Roma. Era un grande giocatore anche. Grazie a tutti. Un'altra giocatore è un problema che ha sprawatoed HzDD.